Dopo che io uso i cerotti li metto sul mio cagnolino, Tucker. Tucker aveva 13 anni quando iniziato a dargli i cerotti. Iniziava a perdere la mobilità nelle gambe posteriore, aveva difficoltà a salire le scale, andava a due zampe alla volta e spesso sbagliava, non arrivava al granino successivo con le zampe posteriori. Gli dava i cerotti usati, quindi non con la potenza piena, ma ne ha ricevuto comunque dei benefici. Dopo una settimana circa, riusciva a fare i saltelli con tutte e quattro le zampe. Era così contento che correva tantissimo, correva avanti e indietro. Poi, dopo un po' di tempo, mi sono scordato di metterli i cerotti per circa una settimana e di nuovo iniziavo ad avere difficoltà a muoversi. Dopo qualche giorno, quindi mi sono subito ricordato di metterli i cerotti e nel giro di tre giorni era di nuovo lì che riusciva a fare le scale facilmente.